E' questa continuità tra il Politecnico e l'ingegneria attraverso via Bonardi, possibilmente non tanto pedonalizzata ma diciamo togliendo il traffico, lasciando il trame e poi il parco nuovo, il parco del campus e poi il parco romano. Non sono quelle le correzioni che lei suggeriva, perché ho sentito che nel cantiere lei ha suggerito. C'è una connessione da creare di continuità, perché sono due zone verde, sono tre zone verdi straordinarie. E sono tre zone pubbliche, quindi bisogna riuscire a creare questa continuità. La città ha bisogno di questa permeabilità, di essere ricucita. E questo fa parte del progetto. No, no, ma il cantiere è fantastico, tutti i cantiere sono fantastici. Poi oggi c'è un suono meraviglioso, quindi è fantastico. Ma adesso se andate in cantina andate a vedere, si indovina, si indovina. Poi non sembrano pochi, ma 102 alberi sono tanti. Saranno aceri, platanoidi, ci saranno un po' di tutto, le magnolio. Cioè è importante, perché poi crea immediatamente una atmosfera diversa, più conviviale, più piacevole. Poi togliere le automobili non è stato facile. Poi siete stati bravi, siete riusciti... L'abbiamo tolta anche da qua. E anche di qua, anche di qua. Ho deciso di... Ma sì, perché bisogna avere il coraggio di queste trasformazioni. Sono trasformazioni lente, una per una, appunto, di rammendo, si potrebbe dire. Però sono trasformazioni che cambiano la città. La rendono più bella nel senso nobile della parola. Più vivibile, più... un po' di civiltà, insomma, di convivialità anche. Ecco, in quest'ottica ha detto che tutti i cantieri sono belli. Vale lo stesso anche per quelli delle grandi opere, secondo lei? Beh, non mi porti su un terreno diverso che ci porta lontani. I cantieri sono belli in generale, dico, perché sono luoghi d'orgoglio. Io ho avuto cantieri straordinari. Ho avuto, non so, a Berlino, dopo la caduta del muro, abbiamo avuto un cantiere di 5.000 persone. Erano 500, erano tedeschi. Gli altri venivano da tutto il mondo. Ebbene, in un luogo che in fondo fu il teatro della più terribile intolleranza della storia moderna, Berlino, Mitte, è diventato un luogo di tolleranza. Cioè, le differenze, le diversità in un cantiere spariscono. Cioè, prevale la solidarietà e l'orgoglio, una cosa molto importante, l'orgoglio di fare qualcosa assieme. Insomma, è per questo che i cantieri sono luoghi magici, portano solidarietà e sono anche luoghi di pace, nel senso bello della parola. Sono luoghi di solidarietà. In contropendenza, quindi, con la... Ma in contropendenza non lo so, non in giro per il mondo, direi, ma anche l'Italia, bisogna poi esagerare, dai, le cose ci fanno anche nel nostro paese. Questa non è una prova, direi, non è una prova. Comunque, i cantieri, la mia è un'osservazione pressoché romantica, i cantieri sono luoghi fantastici, meravigliosi. Sono luoghi di speranza, cioè sempre qualcosa di magico. È il futuro, il cantiere è il futuro, è una promessa di una vita migliore, qualcosa di questo genere. E questo è un cantiere in questo senso, perché vedrete che ci diamo appuntamento tra quanto, nemmeno un anno, più o meno. E beh, insomma, a questo punto la città in una zona abbastanza potente sarà trasformata. Ed è questo il bello delle città, che sono luoghi, città e civiltà. In italiano sono parole che si assomigliano. Uno che deve saper costruire, ma deve anche mettere in conto il costruire per cosa, insomma, per la comunità, per la gente. E che in questo senso era certamente un'attività nobilmente politica. Questo è un progetto importante, anche in senso politico, nel senso bello della parola. Nel senso di polis, città, politico come polis. C'era una promessa famosa, tutti lo sanno, ma mi piace ripetere. I neonati atenesi facevano promesse, facevano un discorso più breve della storia. Dicevano, vi prometto atenesi di restituire l'Atene più bella di come me l'avete consegnata. Fine.